Una giornata faticosa, una giornata di impegno con tante delibere utile perché per intanto è un consiglio che si celebra dopo l'approvazione di un importante emendamento da parte del Senato che in qualche modo riconosce le difficoltà degli enti locali. Oggi noi ci troviamo ad approvare una serie di delibere che sono non un rituale ma sicuramente la sistemazione di alcune questioni di merito e ci troviamo anche ad approvare l'assestamento del bilancio in una condizione difficile. Come ho detto prima l'emendamento approvato al Senato sicuramente ci aiuta però io penso e ribadisco ancora una volta che forse è giunta l'ora che il governo, il Parlamento in particolar modo si renda conto delle difficoltà degli enti locali e promuova una nuova normativa sul rapporto Stato ed enti locali e soprattutto sul trasferimento economico. Noi ci sentiamo oggi un po' più tranquilli, ovviamente le cose non sono del tutto al di fuori dei rischi, bisogna ancora lavorare ma soprattutto lavorare su alcune azioni concrete. È stato annunciato nei giorni scorso l'incorporamento del libera di giunta che giungerà al Consiglio, ci auguriamo il prossimo settembre, dei lavoratori di Net Service, questa è una buona notizia perché abbiamo lavorato alcune forze politiche in tale direzione. È quello che si aggiunge come commento, come dire, accessorio che bisogna trovare nuove condizioni di sinergie tra l'Aggiunta e il Consiglio Comunale. Questo è sicuramente per lavorare meglio e per dare risposte più concrete ai cittadini.